Eccoci qua Mirko il trattorista Tiro la fune 25 giugno 2011 Sponsor George Deer Mirko Cosa vuoi dire al tuo avversario? Ah, se come il cervo La potenza non ha limiti Stai fermo dove sei, non muoverti Questo è il retratto di Mirko il trattorista Che è pronto a sconfiggere il suo avversario Senza guanti Mirko, sono pronti? Go! Ciao Dall'altra parte troviamo Il fratello di Luca Cosa vuoi dire a Mirko il trattorista Per una sconfitta Lui? Sì, sì Ok Vediamo il ritratto Dall'avversario Sei pronto a batterlo? Sì, sì Perfetto Caricatissimo Adesso vedrete Attenzione Alice quando vuoi Puoi partire A chi tira A chi tira a chi due da l'altro Attenzione Vai Ivan Ha vinto habita il rotto Ha vinto Mirko il trattorista Mirko il trattorista Esci sconfitto Mi lasci l'intervista! Mi lasci l'intervista! Come mai è sconfitto Mirko? Cosa è successo? Quanti giorni di mutuo alla Romandas? A Miss! A Miss! Ivan, ormai... Come mai? Come mai? Cosa stupacca?